Amici di Arendt, Vissaia Tira, Spawn e Remaster tornano in campo per la semifinale di ritorno di UniLeague, l'atto secondo. All'andata è terminata in perfetta parità 2 a 2, ecco gli highlights della super sfida, valida per l'accesso in finale. Sito prova a sbloccare il risultato con un tentativo da centrocampo ma la palla non scende come dovrebbe, nessun problema per Esposito. Sciorio ruba il pallone a centrocampo e va via sulla fascia destra, incrocia perfettamente con il destro e realizza l'1 a 0. 2 contro 2 perfetto del Vissaia che realizza l'1 pari con pistone al decimo minuto di gioco cerrato. Se la prende con i suoi difessori, Albergo prova a rispondere con un timido tiro anche deviato dall'opposizione dell'avversario. Nella seconda frazione Albergo non perdona la posizione ravvicinata, si smarca benissimo con una finta e realizza un super goal. Ma è nel finale che si vivono emozioni forti, tutto parte da Albergo, poi Sciorio e becca Tartaglia che a porta Spannacana firma il 3 a 1 che vale la qualificazione in finale. Manovra avvolgente e goal partita. Manca pochissimo, Vissaia non bolla e realizza il 2 a 3 proprio allo scadere sul calcio di punizione ma è troppo tardi, Remastered vince il ritorno e conquista un posto per la finale di Unileg.